Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come dare luce ad una classica manicure con smalto nero. Per realizzare la nostra manicure ci serviranno uno smalto nero, un top coat brillante, una base, uno smalto glitter, dei brillantini per unghie e un bastoncino. Come sempre cominciamo stendendo una mano di base per proteggere le nostre unghie. Stendiamo ora una mano di smalto nero. Lasciamo asciugare bene lo smalto e applichiamo poi una mano di top coat. Prima che il top coat si asciughi, prendiamo i nostri brillantini ed applichiamoli alla base dell'unghia utilizzando il bastoncino. Ecco il risultato. Prendiamo ora lo smalto glitter ed applichiamolo solo sulla parte alta dell'unghia per creare contrasto. Ed ecco la nostra manicure finita. Anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti! Io sono Giuliana, lui come sempre è Daniele e siamo di nuovo nella nostra cucina. Oggi proveremo a preparare insieme a voi due piatti della cucina indiana. Il Murgh Tikka Masala, ovvero il pollo speziato, e il Dal, che sono delle lenticchie indiane. Grazie a tutti! Grazie a tutti!